La terra d'Arneo nuovamente protagonista di Sereno Variabile, la popolare trasmissione di viaggio e turismo di Rai 2 condotta da Osvaldo Bevilacqua. Un viaggio emozionale alla scoperta di luoghi, sapori, tradizioni di una terra di straordinaria ricchezza che può contare su numerosi attrattori di rilevanza naturalistica, culturale, spirituale, oltre che luogo di produzioni enogastronomiche d'eccellenza. La cartolina di apertura è affidata alla presentazione dell'anima rurale di questo territorio, sospeso tra terra e mare, e quindi al tradizionale rito della vendemmia settembrina. Alla ricerca di curiosità il noto conduttore visiterà un frantoio ipogeo, preziosa opera di archeologia industriale, e sarà poi ospite di una masseria didattica dove ogni giorno bambini e ragazzi si confrontano con le antiche lavorazioni artigianali. Il tour procede con una tappa negli affascinanti centri storici dei comuni dell'entroterra, per esaltare le bellezze architettoniche e per scoprire le tradizioni religiose e popolari fortemente radicate nella cultura locale. Qui l'incontro con alcuni personaggi del posto ci fornirà numerosi spunti per una vacanza anche fuori stagione. Per non tralasciare l'enorme patrimonio naturalistico e culturale che si sviluppa lungo le nostre coste, una sosta presso una torre costiera di recente ristrutturazione adibita a sede museale. Si ritorna poi nel contesto rurale per visitare una villa masseria che alla bellezza architettonica associa un'eccellente produzione di prodotti caseari. A completare il ricco programma delle riprese, la visita ad una raffinata residenza agrituristica e la presentazione di piatti tipici a base di prodotti di terra e di mare a cura di docenti e alunni dell'istituto alberghiero. A chiudere questo viaggio ideale si torna a parlare di vino, fiore all'occhiello di una produzione che annovera ben cinque doc e alcuni dei vitigni più famosi a livello mondiale. Tra le testimonianze più preziosi di questa antica tradizione, gli oggetti conservati all'interno di tre musei del vino di terra d'arneo. Abbiamo affidato ancora una volta il racconto del nostro territorio ad una delle più longeve e fortunata trasmissioni televisive del settore turistico, certi che l'immagine della terra d'arneo e di tutti i suoi nove comuni sarà adeguatamente veicolata sul piccolo schermo, così come afferma Cosimo Durante, presidente del GAL terra d'arneo. Gli occhi sono puntati sulle nostre eccellenze, su un'offerta territoriale di qualità, ma spesso frammentaria, che ha bisogno di essere conosciuta e messa a sistema, continua Durante. Infine, ma non ultimo, è importante dare contezza dei risultati del nostro operato, supportare piccoli e grandi impreditori e tutte quelle realtà che lavorano per far crescere questo territorio, facendo squadra e perseguendo obiettivi comuni.